La rinascita del Terme di Castellammare può rappresentare un'importante opportunità imprenditoriale, nonché un'occasione di rilancio del territorio. Oggi si è svolto l'incontro di presentazione del piano industriale della società immobiliare New Terme Spa, Sint di Castellammare, che ha una pletea di imprenditori associati all'Unione e alle altre associazioni del sistema confindustriale, ha spiegato il piano di rilancio, che prevede la cessione ad un soggetto privato della gestione dei complessi termali, nuove terme e antiche terme dell'hotel e dell'ex caserma cristallina. Ascoltiamo il sindaco Antonio Pannullo e il direttore generale di Unione Industriale di Napoli Michele Vignola. Sindaco, le terme da sempre rappresentano un'importante risorsa turistica, quelle di Castellammare sono un simbolo che bene tornino a risplendere. Decisamente su questo noi puntiamo, perché sia un volano non solo per la nostra città, un volano non solo di natura economica, ma di crescita del territorio e di sviluppo del territorio. In ragione di cui abbiamo messo in piedi il piano industriale di Sint, attraverso il quale poi si arriverà ad un mando per la giudicazione di 30 anni, più 30, della gestione del complesso immobiliare nella sua interezza. Parliamo di termalismo anche innovativo, nel senso che ad ampio spettro che va dalla medicina riabilitativa, passando per il benessere, al classico termalismo di un tempo. Qui siamo tanto legati, in ragione soprattutto delle fonti e delle sorgenti di Castellammare che sono 28 e sono un'unicità, un unicum in Italia e probabilmente anche all'estero. su questo tratto identitario che puntiamo, affinché gli imprenditori sani, che abbiano la loro competenza e che abbiano non solo capacità economica, ma anche imprenditoriale in senso lato, possano veramente avvertire l'importanza di investire sul nostro territorio. Un flesso di straordinarie potenzialità che purtroppo negli ultimi 30 anni, 40 anni, per una serie di ragioni, è andato degradando. È nostro dovere essere accanto a questa iniziativa della politica locale che però si fa da parte perché appunto la comunità degli affari sia in grado di offrire delle occasioni di reale sviluppo.